Siamo Roppongi Hills, obiettivo vedere un acquario che si trova al 52esimo piano, ecco qui con il suo smalto nero di questo grassacero, guarda che figo, guarda che alto, guarda rifiuti la torre di Tokyo, la intravese, piccolina, abbiamo la torre di Tokyo che ora non si vede. Quando a Tokyo si parla di greta sceglianti. Grazie. 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 Impressionante. Grazie. Grazie.